forte come sempre da oggi ancora più intelligente ave piaggio e anche diesel 30 chilometri con un litro di gasolio ave intelligence diesel ogni giorno ogni tuo piatto diventa una ricetta sapore ma con un segreto il mio dado star con la tua esperienza nel dosarlo e lui che da più sapore in ogni piatto il tuo segreto il più buon sapore che ci sia prodo star venuti a milioni da ogni luogo arrivano prossimamente una grande e fantastica avventura la voglia infinita una nuova superproduzione da noi da oggi più cremosità più pezzi di frutta più voglia nuovo yogurt canone con frutta non mancate di gustarmi nervosa no è che la lana sulla pelle anche se morbida non se è lana soffice lip lana per la pelle lana soffice lip non è solo morbida che si vede ma soffice che si sente lana soffice lip lana per la pelle è l'isir san marzano boschi una e mille notti signora ho qui vernell l'ammorbidente ce l'ho già ma questo è il nuovo vernell ancora più cremoso lo provi sì ma voglio vedere se riesce ad ammorbidire anche questo piumino usato vedrà proviamo bucato e piumino allora tutto morbidissimo e il piumino guardi cosa ha fatto nuovo vernell più morbido di così nuovo vernell morbidezza sempre più imbattibile verso un civas anche per te cara un civas volentieri vuoi celebrare i tuoi successi al golf non ti sembra che me lo meriti e si tratta bene il campione ciao l'offre anche a noi un civas civas riga il whisky preferito da chi sceglie il meglio prestigioso raffinato regale oggi ancora più regale con l'esclusivo formato da un litro civas riga ancora più grande ancora più regale l'abbiamo 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 l'abbiamo